Ciao amici di Midware, sono Busta. Siamo nel mezzo di un inedito sociale che mai avremmo pensato di poter vedere e vivere. Quindi io vi saluto con tantissimo affetto, vi chiedo di tenere duro, teniamo duro tutti e invece a tutti i musicisti chiedo e chiediamo, nel momento in cui continueremo a fare musica perché quella non smetteremo mai di farla e avremo bisogno di nuovi strumenti perché nei musicisti ci piacciono i nuovi strumenti, beh allora quelli compriamoli da aziende italiane. Ciao a tutti, io per esempio sono così affezionato ai miei strumenti che qualche volta me li porto a letto, i miei giocattoli, ma io i miei giocattoli li scelgo nei negozi dove ho il negoziante che mi consiglia, che mi dà delle dritte, che mi aggiorna, così non sbaglio gli acquisti e non mi importa se pochi centesimi o pochi euro comprando online all'estero potrei risparmiare perché ho guadagnato già nei consigli che mi dà il nostro rivenditore italiano. Ciao a tutti gli amici di Midiware, ciao ragazzi, allora sappiamo tutti il periodo difficile che stiamo attraversando e una volta che l'emergenza sanitaria sarà finita, ovviamente l'emergenza dal punto di vista economico sappiamo tutti che continuerà. Noi musicisti ovviamente siamo pieni di strumenti, i nostri strumenti ci piacciono e ci piacciono ancora di più i nuovi strumenti, quelli che continuiamo in maniera costante a comprare e ad utilizzare. La cosa importante in questo momento e soprattutto anche dopo è quella di comprare i nostri strumenti dai rivenditori italiani per far sì che questo settore possa ritornare in piedi dopo un periodo del genere. Ciao a tutti. In un momento di crisi come questo è importante riuscire ad autosostenersi e noi musicisti lo possiamo fare continuando a acquistare i nostri strumenti dai rivenditori italiani perché soltanto così riusciremo a sostenere un'industria che già da molti anni si prodiga per sostenere noi. Grazie. Ciao a tutti, io sono Rodrigo Derasmo e vorrei mandare un grande saluto a tutti gli amici colleghi musicisti e agli amici di MidiWeb e invitarvi, invitarci tutti quando potremo vorremmo tornare a comprare uno strumento a farlo assolutamente dall'azienda italiana perché credo sia fondamentale in questo momento supportare l'economia del nostro paese e quindi anche delle aziende del nostro settore che si occupano di strumenti. Un saluto a tutti, spero a presto. Ciao. Ciao amici di MidiWeb, sono Luciano Zanoni, faccio il tasterista. So che stiamo affrontando tutti un periodo molto complicato e spero non usciremo veramente presto e quando ci sarà maggiore serenità per tutti, mi raccomando, cerchiamo di comprare gli strumenti musicali da aziende italiane e darci una mano tutti insieme. Vi mando un saluto e spero a presto.